Una tragedia in mane, un dolore infinito, il momento del fare, dell'agire senza perdere tempo. Questa mattina Domenico Pettinari, Massimiliano Di Pillo e Stefania D'Amico, rispettivamente presidente del movimento politico Pettinari per l'Abruzzo e consiglieri della lista Pettinari Sindaco hanno tenuto una conferenza stampa davanti al parco Baden Powell dove domenica pomeriggio è stato ucciso il 17enne Christopher Thomas Luciani. Pettinari non ha alcun dubbio. Basta dire che Pescara è una città sicura, l'ho sentito troppe volte, significerebbe solo mettere il problema sotto al tappeto. Purtroppo Pescara non è una città sicura, le cronache che ci dicono, i dati statistici che ci dicono che è una delle principali città italiane dove si spaccia droga e dove c'è assunzione di droga, quindi di cosa c'è bisogno? Questa sarà la nostra proposta di una task force, gruppi organizzati di psicologi e sociologi che debbono andare in mezzo alla strada, incaricati dal comune, anche con l'assilio della polizia locale per intercettare ogni tipo di situazione di disagio giovanile, di sofferenza per recuperarli e inserirli in un percorso che li porti alla risoluzione della problematica. Ma non basta solo questo. I parchi devono essere sorvegliati, non solo i parchi. Io immagino il famigerato parco di Piazza Santa Caterina, il parco di Via Regina Enena, i giardinetti di Piazza Salotto e sto citando solo centralissimi parchi della città di Pescara, sono tante volte fuori controllo con baby gang, spacciatori di droga e persone che rendono invivibile la permanenza di anziani, minori e bambini che vogliono rilassarsi e riposarsi nei nostri parchi. Cosa servirebbe? Intanto inservire un servizio di pattugliamento, di sorveglianza da parte della polizia locale. Tutto giusto, tutto vero, c'è anche un problema che non si può trascurare, la carenza di personale. Ricorriamo anche alla vigilanza privata, si spendono tanti soldi per stupidaggini a volte. Io direi investiamo i nostri soldi anche qualora non ci sono nell'immediato uomini a disposizione nella vigilanza privata perché vedere un uomo della vigilanza privata pattugliare un parco significa anche un grande deterrente. Noi presenteremo a breve un'interrogazione comunale appena insediati per chiedere anche al sindaco col quale vogliamo collaborare quando ci sono queste situazioni di drammaticità e di dolore quanti fermi vengono fatti nel fine settimana, quante persone vengono fermate, quanti giovani adolescenti identificati e soprattutto quante persone poi risultano destinatari ai provvedimenti naturalmente anche e soprattutto da parte della polizia locale. Questo è un quadro che ci serve per capire, per analizzare e per proporre soluzioni alla politica. Basta solamente volerle e attuarle.